Sull'asfalto ancora una volta resteranno i segni, i cerchi tracciati dalle forze dell'ordine che hanno rilevato l'ennesimo incidente stradale. Alle fiorine di Clusone, lungo il rettilineo davanti al ristorante Pineta, oggi intorno alle 14 ha perso la vita una donna di 78 anni, travolta da una smart che viaggiava verso Clusone. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità. La conducente, una 39enne originaria della provincia di Brescia e domiciliata a Rovetta, non ha fatto a tempo evitarla. La pensionata Maria Verzeroli è stata trascinata per una trentina di metri ed è poi finita sull'asfalto. Sul posto sono subito a corse un'ambulanza del corpo volontario Presolana e l'auto medicalizzata. È stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118, atterrato in un prato vicino. Nonostante i tentativi di rianimarla, Maria Verzeroli non ce l'ha fatta. L'incidente è stato rilevato dai carabinieri di Erdesio. Con loro hanno lavorato anche gli agenti della polizia locale di Clusone. Il traffico sulla provinciale è stato deviato sino alla rimozione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia all'interno delle fiorine. Il tratto stradale è già stato in passato teatro di diversi incidenti.